Ciao a tutte e tutte da Serie TV Italia. Ecco le trame di Love is in Tier dal 22 al 27 novembre. Pyrill ed Engin, futuri genitori, scoprono di volere entrambi una figlia femmina. Aidan, decide di concedere a Kemal un'altra occasione. Per festeggiare la sera, vanno a cena in un ristorante, lo stesso dove arrivano Eda e Serkan. Per complicare ulteriormente la situazione, a fare loro compagnia spunta anche Puren, decisa a conquistare il bel architetto. Serkan e Eda, soli nel loro camper in riva al mare, tornano in città per le prove del film, che sono impegnati a girare. Scoppia la gelosia di Eda per via dell'atteggiamento della prima attrice, Puren, nei confronti di Serkan. Serkan si infuria perché Erdem, all'insaputa di tutti, ha dato il permesso alla troupe di girare negli uffici della ArtLife. Engin e Pyrill, di ritorno dall'ospedale, dove hanno saputo di aspettare una bambina, si imbattono in ferit, e ironizzano sulla carriera di attore di Serkan. Le prove della troupe si risolvono in modo molto comico, ma alla fine, Serkan e Eda tornano al loro camper. Lì vengono raggiunti da Puren, che con uno stratagemma, ipnotizza Eda, intimandole di dimenticare Serkan. Eda finge di stare al gioco, e con lei anche Eifer, Aidan, Pyrill e Engin, che nel frattempo l'hanno raggiunta presso il camper. Serkan però crede che Eda sia stata veramente ipnotizzata, e così quando lei, Engin, Pyrill, Aidan e Eifer, gli dicono di aver voluto fargli uno scherzo, si rende conto di quanto sia spiacevole essere dimenticati dalla persona che si ama. Poi nel camper, Eda trova per caso gli esiti degli esami medici di Serkan, scoprendo con sgomento la sua malattia. A presto da Serie TV Italia